Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia, prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri video. Sappiamo tutti che The Division 2 sta avendo un enorme successo grazie alla riuscita decisamente attesa e inaspettata a confronto del predecessore nello sviluppo di questo secondo capitolo. Ebbene ieri durante la live stream il dato più importante emerso è lo sviluppo stesso del gioco che ahimè rende necessario posticipare con il capitolo 3 di maggio l'uscita del tanto atteso raid da 8 giocatori. Durante la live infatti massi va espresso il desiderio e la volontà di dover sistemare prima quello che c'è in ballo, in particolare il bilanciamento della salute dei mob e il meta in generale, cercando prima ancora di rilasciare qualsiasi upgrade di espansione di rendere il gioco completo e bilanciato sotto qualsiasi aspetto. Ed ecco quindi che il raid viene rimandato a maggio a data non ben specificata e sul PTR dovrebbero comparire tutte quelle modifiche che Massive stessa ritiene più urgenti e importanti e che tutti coloro che lo hanno potranno provare in anteprima. Massive già con il primo capitolo continuava a modificare il meta del gioco cercando in tutti i modi di rendere il più bilanciato possibile, cosa ahimè mai accaduta, ma con questo capitolo sembra veramente ce la stia mettendo tutta per rimanere in cima alla classifica dei TPS grinder e c'è da ammettere che per ora non sta sbagliando un singolo colpo. Con il PTS che potrà essere testato fino al 2 maggio come detto in precedenza, Massive cambierà parecchie cose. Buff e Nerf sono dietro l'angolo e i cambiamenti tanto attesi sull'IA dei mob è già pronta per essere testata, ma il cambiamento più immediato è la possibilità di droppare Gear 515 nella zona nera e solo nella zona nera. Questo è un test e Massive l'ha ripetuto più volte e vuole portare i giocatori, prima del rilascio del ride, proprio a quel livello di gear score. Infatti Massive ha annunciato che, non essendoci un drop di quel livello di gear in giro per il mondo PvE, si potrà avere in effetti solo nelle tre zone nere dove i giocatori, pur che fatica, lo troveranno. Forse anche gli eventi eroici in giro per la mappa sarebbero da portare a un drop pari al 515, ma per ora Massive vuole spingere i giocatori nelle zone nere. È una scelta abbastanza drastica da parte di Massive e poi in effetti non essere condivisa, ma aspetterà ai giocatori del PTS dare un loro giudizio. Con questo è tutto, GG a tutti quanti!